La mia vita è tutta qui La mia vita è tutta lì In questo consiste E' quei 10 centimetri davanti alla faccia Ma io non posso obbligarvi a guardare Dovete guardare il compagno che viene accanto Guardarlo negli occhi E io scommetto che ci vedrete un uomo determinato Per guadagnare terreno con voi Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra Consapevole del fatto che quando sarà il momento voi Farete lo stesso per lui Questa è essere una squadra secondo me Per un po' di tempo Ho dormito con un ragazzo nel magazzino Ma questa persona mi chiedeva sempre i soldi in continuazione E allora sono andato io Ma questa persona mi chiedeva sempre i soldi in continuazione Per un po' di tempo E allora sono andato io 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 E' stata presentata questa opera della scatola azzurra Monte Bianco Cavallo Giusto Sacco Caramelle Patate Carbone Carbone Esatto Bravo Terza domanda Notte Giorno Luna Lavoro Luna? No ho sbagliato La risposta è giorno Cento volte Ah Fa male Ma siete sicuri che Vestito 300 volte No Shhh shhh Non urli non urli Mi stai a sentire non urli Ascolti ascolti Si concentri per l'ultima domanda Cerchi di capire Ascolti bene Abbiamo finito signor Riccardo E' l'ultima domanda Ascolti per favore Azzurra Acqua Scatola Azzurra Acqua Scatola Azzurra Azzurra Acqua Scatola azzurra 250 volte Azzurra Azzurra Sion Azzurra Incluso Sion O Sion Pu Doctor Grazie a tutti